Iniziamo una nuova settimana, oggi è lunedì 19 settembre 2016, iniziamo con la rassegna stampa delle 7.30 come ogni giorno, al mattino in diretta, iniziamo il tram tram quotidiano a casa perché qualcuno già ha ripreso la scuola, molti la riprenderanno il 15, però già molti zaini sono stati messi in spalla questa mattina, tanti giovani sono partiti alla volta delle stazioni degli autobus per prendere e andare a scuola. Allora, piano piano stiamo tornando dunque a quello che è il tram tram della gran parte dell'anno, della maggior parte dell'anno e noi cominciamo adesso con il calendario, vediamo un po' che cosa ci indica il calendario di oggi. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda il nome di Maria e in particolare ricorda un episodio, un episodio che è avvenuto nel 1683 nel giugno del 1683 l'esercito dell'impero ottomano giunse sotto le mura di Vienna e pose l'assedio alla città la capitale imperiale sembrava l'ultimo baluardo a difesa dell'Europa che correva il rischio di essere completamente assoggettata a difesa della città corse l'esercito polacco di Giovanni Sobieschi che sconfisse i turchi costringendoli a ritirarsi e a ricordo di questa circostanza il Papa Innocenzo XI istituì appunto la festa odierna il sole surto da 6.75 e tramonterà a 19.26 vediamo il tempo velocemente per oggi, oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente nelle zone dell'entroterra durante le ore più calde della giornata precipitazioni che non si escludono anche seppur devoli insomma ed occasionali nel settore montano meridionale soprattutto nel pomeriggio, le temperature oggi sono in lieve aumento per la giornata di domani martedì il tempo rasserena ancora di più tranne le ore più calde della giornata nelle zone dell'entroterra dove ci saranno le nuvole ma senza precipitazioni le temperature saranno senza variazioni di rilievo probabili condizioni di tempo stabile sulle marche anche nelle giornate di mercoledì e giovedì c'è la cronaca con l'incidente che ha causato una vittima un pesarese molto conosciuto nell'ambiente sportivo soprattutto quello calcistico della Vispesaro ieri allo stadio tante persone lo hanno ricordato con le lacrime agli occhi poi c'è la festa anche seppur rovinata all'ultimo minuto per Valentino Rossi che ha festeggiato un po' in stile Blues Brothers bevendo dallo stivale insomma tutto questo e altro nella rassegna stampa che facciamo partire immediatamente e cominciamo dal resto del Carlino con la cronaca dicevamo la tragedia del ciclista tifoso questo è il titolo Massimiliano Capanna 48 anni cade in bicicletta e viene investito mortalmente il giorno del suo compleanno lascia due figlie la curva della Vis l'onora prima della partita il ciclista lo vedete in questa fotografia pubblicata sempre in apertura sul Carlino Carlino che mette in evidenza ancora oggi l'episodio cui è rimasto vittima un vigile durante i controlli alla fiera di San Nicola a Pesaro l'allarme del comandante Galdenzi dopo l'aggressione appunto a questo vigile ora dicono loro gli uomini in divisa temono, temiamo gli abusivi andiamo nelle pagine interne allora ripartiamo da qui la pagina 3, Galdenzi il comandante dei vigili di Pesaro qualcosa è cambiato, gli abusivi sono aggressivi e violenti il comandante dei vigili urbani dopo gli scontri di sabato il 22enne che ha aggredito prima a spinte poi con un calcio l'agente di polizia municipale è un senegalese di 22 anni senza documenti è stato arrestato per esistenza e lesioni e ha preso, lo ricordiamo appunto come dicevo ha preso a calcio un agente della municipale nel parapiglia alcuni passanti hanno insultato le forze dell'ordine che stavano arrestando lo straniero c'è quindi tensione a Pesaro per questa fiera che stasera tra l'altro si conclude un gruppo di 20 senegalesi ha fronteggiato anche ieri un trappello di poliziotti e la tensione, come dicevo sale, il Carlino dedica due pagine a questa aggressione noi ne abbiamo letto una soltanto nell'altra pagina c'è anche un intervento della Lega Nord che ha già annunciato un sit-in di protesta dicevamo di questa tragedia che ha colpito una famiglia quella di Massimiliano Cappanna di 48 anni che ha sposato due figlie tifosissimo della Vis in un incidente a Corinaldo ha perso la vita era in gruppo con altri 30 appassionati di bicicletta è caduto, poi è stato investito ieri era il suo compleanno lo attendevano a casa per la festa purtroppo, come dicevamo, è morto c'è l'articolo sul Carlino poi dalla pagina di fama invece Terme di Carignano pratiche dimenticate nel cassetto ecco perché chiediamo 20 milioni di euro al Comune l'Avvocato di Berloni spiega il maxirisarcimento persa una grande occasione quale industriale ora si farà carico di una situazione del genere vedete l'ingresso delle Terme di Carignano e qui invece l'Avvocato Antonella Storoni ancora dal Carlino il triangolo spalanca le porte all'amore per la vita inaugurazione simbolica di Don Gaudiano per la comunità e poi l'altra pagina con questa chiudiamo quella dei giorni di Valentino Rossi eccola qua, guardate che bella immagine alla fine arriva Dani ci mancava anche lui lo spagnolo in clamorosa rimonta guasta la festa al popolo giallo la rabbia del dottore i tifosi inneggiano al passaggio di Valentino Rossi sul circuito di Misano poi fa lo show Valentino Rossi stivale champagne dice lui io brindo in casa mia poi c'è anche la delusione raccontata del babbo di Valentino ci mancava anche quello ha detto Graziano Rossi riferendosi a Dani Pedrosa andiamo adesso sul Corriere Adriatico questa è la prima pagina eccola qua, giovane papà muore in bicicletta shock e lacrime allo stadio cade e viene investito da un'auto storico tifoso della Vis striscioni e fiori poi c'è la pagina invece la fotografia dedicata allo sport Lorenzo, il marchigiano la nuova star delle moto Baldassari show a Milano in trionfo nel GP di Moto2 sotto la testata qualche riferimento alle notizie che troverete nelle pagine interne il calcio, la Vis si salva al 94esimo e con il Pineto c'è il primo punto mentre ricordiamo che il Fano ha giocato in Lega Pro nella giornata di sabato pareggiando 1-1 contro l'Albino Leffe città dello sport Pesaro c'è il verdetto entro un mese si punta sui mondiali di ginnastica ritmica prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo e adesso le pagine le pagine di primo piano delle marche eccola qua si parla ancora chiaramente del terremoto notizie che arrivano da Arquatta del Tronto dove i vigili del fuoco sono impegnati in questa fase dei soccorsi soprattutto per recuperare tra le macerie tutto quello che è possibile persino le cose che sono dentro il congelatore dentro i frigoriferi che sono rimasti dentro le case crollate ma c'è anche chi si mette in coda organizzando chiaramente mettendosi in lista per avere in assegnazione una squadra di vigili del fuoco per andare dove una volta c'era appunto la propria abitazione e chiedere attraverso i vigili del fuoco di recuperare quello che è possibile recuperare dai telefonini ai computer qualcuno ha chiesto persino i rossetti i trucchi tanto per per rimanere perché un po' di rossetto aiuta a togliersi di dosso la paura in questa terra in questa terra che trema insomma si cerca di tornare un po' alla normalità anche a parlo di Fano cento e passa chilometri da qui non è poi così lontana e poi si parla anche di animali animali che le cronache ci raccontano essere restituiti dopo addirittura 16, 17, 18 giorni da quel terribile sisma ed ecco dunque che anche le associazioni animaliste chiedono in qualche modo di intervenire da dove si sapeva che c'erano degli animali d'affezione in qualche casa che adesso non c'è più poi sulle spese facili invece in regione è attesa per le prime sentenze il GUP Zagoreo decide oggi su cinque abbreviati e su 61 consiglieri indagati e su cinque pendono le istanze di condanna del PM tre anni di reclusione per Spacca due anni e quattro mesi per gli ex consiglieri Giacomo Bugaro ex vicepresidente dell'assemblea legislativa e Massimo Binci ex capogruppo di sinistra italiana SEL due anni per Francesco Comi segretario regionale del Partito Democratico e per Roberto Oscar Ricci ex addetto al gruppo PD richieste pesanti a cui le difese hanno contrapposto istanze di assoluzione Ariston parliamo di economia parliamo di economia marchigiana l'Ariston termo arriva in Canada il gruppo fabrianese si conferma leader nel settore del comfort termico con l'acquisizione di NTI l'obiettivo è garantirsi anche il Nord America per completare la presenza nel mercato globale la fotografia del Corriere per Paolo e Francesco Merloni torniamo nelle pagine di Pesaro e Fano apriamo quella di Fano eccola qua tutto il Partito Democratico è con il sindaco sulla questione dell'ospedale unico ma ora serve una mediazione il capogruppo Bacchiocchi dice gli altri comuni non sostengono il sito di Chiaruccia resta dunque muraglia questa è la prima pagina di Fano del Corriere Adriatico su clinica e opere varie viarie con una coalizione coesa potremo ottenere il meglio per la città di Fano c'è un elefante a spasso per Lucrezia lo vedete in questa fotografia ma attenzione quest'uomo non è un passante non è semplicemente il suo addestratore è giustamente anche un po' per pubblicità un po' perché per fargli sganchire le gambe quest'elefante giustamente è stato fatto passeggiare un pochettino lì vicino però che cosa è successo qualcuno è andato in agitazione e quindi hanno chiamato pensando che fosse fuggito dal recinto lo ricordiamo a Lucrezia c'è il Circo Orfei oggi è l'ultimo giorno si aggirava libero per Lucrezia in realtà non era libero c'era il suo c'era il suo addestratore Brodetto la festa del Brodetto che ieri si è chiuso con presenze da record grande folla al Lido Luca Travaglini re dei cuochi amatoriali e ora inizia la promozione invece nei ristoranti però c'è qualcuno che si lamenta perché il pesce il Brodetto è andato esaurito già alle nove di sera ieri davvero c'era tanta gente anche in fila per mangiare un buon piatto di Brodetto la pagina della Valle del Cesano invece tre migrati all'Eurospin cercano di forzare la porta dopo le otto di sera le cassiere chiamano il 112 sospetti sugli ospiti del motel Maggi di Pergola dove sono alloggiati 26 migranti sono stati segnalati altri due episodi gesti volgari a una donna e un furto di frutta in un giardino l'altra pagina del Corriere è quella di Senigallia con questa auto di servizio dove c'era viaggiava a bordo una guardia giurata ha perso il controllo della macchina ha fatto saltare una tubatura adesso lui è finito fuori strada ma adesso il conducente si trova ricoverato in gravi condizioni la fuga di gas intanto è stata tamponata dall'azienda Marche Multiservizi tutto da ricostruzione tutta da ricostruire la dinamica di quanto è accaduto sul posto anche l'eliambulanza e poi torniamo sulla pagina sempre sulla pagina del Corriere Adriatico da Senigallia c'è la notizia di questo ciclista perché ripeto è avvenuto questa caduta mortale purtroppo l'investimento mortale è avvenuto a Corinaldo quindi se ne parla anche sulle cronache di Senigallia questo ciclista pesarese che cade nel giorno del suo compleanno Massimiliano Cappanna ha perso la vita in un incidente sulla provinciale dell'Acqua Santa tifoso della V sul Tra e Squadra lo hanno ricordato con striscioni e un minuto di silenzio l'uomo stava trascorrendo la domenica con un gruppo di amici e poi la pagina di Pesaro e Provincia anche qui la festa per Valentino Rossi così non vale l'onda gialla si infrange sul più bello Rossi domina per 21 giri poi arriva a Pedrosa spettacolo unico inoltre 100.000 a Misano guardate che belle fotografie il dottore ha festeggiato in stile Bruce Brothers bevendo dallo stivale e omaggiando i tifosi e poi la fiera dicevamo la fiera di San Nicola i bambini che scacciano gli abusivi i piccoli ambulanti sono serviti come deterrente contro i venditori non autorizzati sequestri di merce contraffatte borseggi stasera il gran finale con i fuochi d'artificio alle 22.30 scusate alle 22.30 in piazzale della libertà fuochi d'artificio a ritmo di musica questo è l'appuntamento a Pesaro a Pesaro si discute anche della nuova viabilità che oggi è alla prova della scuola con l'inizio della scuola quindi con gli orari consueti di famiglia che si spostano a una certa ora per andare a accompagnare i figli e quant'altro nella zona del campus sono stati eliminati i semafori e il spazio e le rotatorie il vero test sarà però giovedì l'opposizione ci prova viale della Repubblica dice a senso unico come il lungomare Trieste e poi si parla anche della città dello sport sulle pagine sulle colonne del Corriere città dello sport ci siamo l'Access Europe sceglierà entro un mese tra le varie candidature pervenute Pesaro è in pole position non solo impianti e strutture d'accoglienza nel dossier il calendario dell'evento 2017-2018 Occhio giornali finisce qui noi ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia vi ricordo che c'è sempre il nostro sito internet occhianotizia.it a vostra disposizione per le notizie dell'ultima ora e come sempre chiediamo a voi di aiutarci con le vostre segnalazioni perché i vostri occhi sono le nostre prime telecamere grazie per averci seguito e a stasera grazie per aver guardato